Credo che ci sia da aggiungere anche un'altra cosa, il fatto che Mattarella sia il primo presidente siciliano a un rilievo notevole, un rilievo notevole perché è qualcosa di importante per i siciliani partecipare a questo livello altissimo alle istituzioni del nostro paese. Quindi anche questo è importante anche per me personalmente, visto che sono di origini siciliane, una gioia ulteriore.